siamo qui dall'ospedale mazzini di teramo con armando bella uno dei nomi più chiacchierati del momento purtroppo per motivi riguardanti un fatto poco piacevole dopo qualche giorno in stato di coma a causa di lesioni celebrali oggi si sveglia e decide di parlare in tempi brevissimi ma è forse l'urgenza di dire qualcosa che è più forte di tutto il resto e che nutre la forza vitale di questa coraggiosa e giovane vittima armando come stai cos'è da dire a tutta italia grazie giancarlo sto molto bene forse non sono mai stato meglio addirittura sì ringrazio i medici e tutto lo staff sono stati strepitosi senza il loro lavoro egregio a quest'ora non sarei qui ma ci sono e questo conta quando si vive un'esperienza del genere in cui la vita e la morte diventano aspetti relativi ognuno reagisce a suo modo sono incazzato certo una settimana fa era un ragazzo come tanti che voleva solo fare una vita normale oggi mi sveglio dopo l'esperienza del coma con tutti i fari puntati addosso e non è facile quello che ci tengo realmente a dire però è che io in questi giorni non ero morto ero in un'altra dimensione semplicemente andare in coma per me è stato come sognare ma è tutto più reale di un sogno potrei dire un sogno lucido dove hai potere decisionale e dove ho avuto la possibilità di fare viaggi e interrogarmi su di me completamente inconsapevole di dove fossi e di cosa stesse accadendo ancora adesso non so bene dove mi trovo mi sento lucido ma credo di di non esserlo affatto forse sconterò nel tempo la mia condizione mi hanno detto che avrò ripercussioni mentali e fisiche non indifferenti probabilmente per questo certe cose voglio dirle subito prima di perdere il controllo di me perché l'unica parola che mi porto da questa esperienza è la parola perdono è come se tutto quello che ho vissuto in questi tre giorni percepiti sia come un attimo e sia come un lungo viaggio portassero dietro di loro un messaggio di pace e di speranza io mi dissocio completamente da quello che hanno detto le persone in questi giorni e dalle azioni legali avviate dai miei familiari so che un ragazzo è in carcere in questo momento e che sta passando il suo inferno come io ho passato il mio chi mi conosce sa che ho fatto servizio civile come volontario nelle carceri italiane e non voglio che un giovane finisca lì non sono stato un santo nella mia vita e vi assicuro che mi sarei potuto trovare a parti inverse ho avuto solo la fortuna di averla fatta franca a volte per carità vorrei prendere la testa di ogni persona coinvolta in questa storia e sbatterla al suolo come è stato fatto con me sono umano e fragile ma adesso che sono vivo e ho la possibilità di ripartire vorrei che anche le vittime travestite da carnefici abbiano le mie stesse possibilità ritirerò le denunce che non ho mai avanzato non ci sarà nessun processo per quello che mi riguarda non avanzerò nessuna pretesa legale le parole fanno più male dei pugni e c'è un ragazzo la cui vita è stata messa al bando in questo momento e io vorrei donargli nuovamente la libertà esperienze come quella che ho vissuto io o che sta vivendo lui ti cambiano in meglio altrimenti ti distruggono per sempre siamo faccia della stessa medaglia io ho solo il potere di poter esercitare la compassione che ognuno di noi merita mi sono chiesto cosa vorrei che accadesse se fossi al suo posto così decido di agire non fatevi film strani non ho visto il cristo nei miei viaggi ma ho sentito qualcosa che mi hanno ricordato le sue parole ama il prossimo tuo come te stesso la frase più vera e banale di tutta la storia dell'umanità mi vergogno nel leggere commenti di persone che per difendermi hanno seminato odio non si fermano dei giovani ribelli in questo modo ma dando loro una nuova possibilità del resto non a caso una nuova possibilità è il nome della mia tesi con cui mi sono laureato in lettere e io ringrazio il cielo per aver avuto l'occasione di trasformare le mie idee infatti il volto dell'avvocato limardi brilla di una luce ambigua è intenso senza dubbio nasconde dietro sé gli ideali che hanno guidato il suo percorso di studi l'onestà il senso di giustizio che non ha mai abbandonato e che non ha mai avuto la possibilità di incarnare in pieno un uomo onesto sa qual è la strada da seguire l'uomo giusto invece la deve inventare mettendo a repentaglio se stesso io non ho nessuna idea da difendere in quest'aula signor giudice nessuna un'idea si difende da sola soprattutto viste le parole e la grandezza spirituale della vera vittima di questo caso l'unico imputato che resta chi è un uomo uso questa parola non a caso perché è l'umanità che viene messa sotto processo quella di chi sta apparentemente violando la legge ma affinché essa venga rispettata quella legge che leggo è uguale per tutti ma da avvocato non posso non posso essere d'accordo fino a quando tutti non potranno permettersi una difesa adeguata che è il motivo per cui siamo riuniti oggi dai fascicoli che ho qui davanti leggo di un giovane prosciolto dalle accuse di un reato minore che tale non sarebbe stato se ingrandito dalla lente mediatica ma quello che mi sta a cuore sono i tanti altri giovani che in questi mesi sono stati privati di un valido mentore alle parole tuonanti dell'avvocato ribatte il pm è un buon mentore quello che si crede superiore alle leggi la prossima volta chi troveremo al certi pescara a prendere il metadone matteo messina a denaro qualcuno ride scusate ma io vedo solo un reato commesso e che verrà giustamente punito se il ragazzo è stato prosciolto è solo perché le denunce sono state ritirate e questo non toglie che nel mentre che era ricercato l'imputato lo ha nascosto dalla legge violando i suoi doveri nei confronti dello stato di conseguenza bisogna assolutamente revocargli il titolo di operatore per le dipendenze privandolo della possibilità di lavorare a stretto contatto con ragazzi che vivono una condizione di fragilità nelle comunità terapeutiche è la decina di ragazzi lì fuori che con standardi e striscioni chiedono la soluzione dichiarelli mardi non sono per caso una prova dell'amore che il mio assistito ha donato a chiunque abbia varcato la soglia della sua vita professionale il giudice interviene l'amore non c'entra niente avvocato chi viola la legge non può ricoprire cariche di responsabilità voleva dare a un ragazzo la possibilità di difendersi e aiutarlo a non finire dentro una cella al di là delle motivazioni ci sono momenti nella vita in cui non si può più tacere e la lucidità fa pulizia attorno al marcio che appare sempre più chiaro alla vista degli occhi a volte quello che è stato immaginato ci si accorge che è solo un'illusione venduta a peso d'oro dipinta dal narcisismo accarezzata da un bisogno di rivolta interiore che o si zittisce con niente o non smetterà mai di gridare l'avvocato limardi scuote la testa e dopo un riso amaro si concede un sospiro chiedo scusa signor giudice mi affido alla vostra clemenza perché io ho terminato sono profondamente ferito dalla mancanza di quell'umanità di cui parlavo poc'anzi in questa stanza lo lenzo limardi entra in aula da avvocato ed esce da uomo libero a testa alta il treno ha fischiato per lui diranno che ha perso la testa lo diranno persone che forse hanno tanto cervello dall'aver dimenticato il cuore lo stomaco del resto la battuta del pm è eloquente un operatore che nasconde un latitante un avvocato che abbandona una causa in corso cioè voglio dire siamo su forum su scherzi a parte senza più licenza senza lavoro senza soldi senza la donna che amava enrico non è l'unico ma di certo il più grande sconfitto di questa storia da quando federico è diventato il nuovo direttore della sede centrale della comunità di recupero di pescara non ha più il tempo che aveva prima di cambiare i fiori ogni settimana al cospetto del suo amato mentore ci pensa enrico questa volta che gira come un fantasma mentre cerca uno spiraglio una comunicazione per parlare con i suoi fantasmi non l'andava a trovare da tempo uscito dal cimitero inizia una delle sue solite camminate lungo la spiaggia fino a soffermarsi sopra una barchetta abbandonata e distrutta guarda il mare accende una sigaretta ormai ne fuma più di quante ne vorrebbe fumare così come non tutti i sogni vengono concepiti per essere realizzati non tutti i destini vogliono essere cambiati hai per caso due cinquanta che devo andare a bologna enrico si volta lo vede il mendicante del treno mio dio in sei mesi come si è lasciato andare che brutta c'era che porta quell'uomo e tra i due non si capisce neppure chi è messo peggio enrico mette una mano nella tasca mi dispiace non ho niente da darti al momento barcollando verso la riva le ultime parole famose di un uomo alla deriva sembra le solite scuse ormai io e te ci conosciamo già all'improvviso così felice cantare da solo sentire allegria dopo mesi settimane anni scrivere poesie senza poetica percepisco pura verità immagino l'inimmaginabile mi sento come non esistesse la solitudine posato su una fetta di paradiso senza essermene reso conto sorrido come stessi amando qualcuno che mi sta aspettando lo sento come fossi qui piango come fosse brutto la vita non abito a questo adesso come fosse sempre niente come fosse tutto tempo dove cogli il frutto ero nel buio disperso cercavo te dentro me stesso ho trovato enrico scriverà un libro raccontando in prima persona la sua breve ma intensa esperienza da operatore finita con il caso del ragazzo in coma grazie alla rilevanza mediatica attorno al fatto il libro diventerà un best seller enrico non smetterà mai più di scrivere